Ciao tifosi interisti, con voi DJ Kovacic, oggi ascoltiamo la mia musica dal decimo al quinto posto, ben arrivati all'inter music show, speriamo che vi piaccia la mia musica. Tutta la canzone ascoltiamo. 10 al 5 è questo. Sei pronta a fare il conduttore? Io pensavo che anche io canto Non è vero. Menthol? L'Eden è freddo. Deve rimetterla a posto, è tutto quello che è girato. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama all'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.